Anche Brindisi partecipa alle giornate fai d'autunno con la visita guidata della chiesa e del chiostro di Santa Maria del Casale. Il Fondo Ambiente Italiano continua nella promozione delle bellezze del territorio, proponendo in questo fine settimana la riscoperta di vari luoghi di cultura presenti in tutta la penisola, compreso il territorio pugliese e brindisino. Un'organizzazione non semplice in una fase di ristrettezze sanitarie, ma che ha visto comunque un'importante risposta da numerosi cittadini, brindisini e pugliesi. La situazione è stata più complessa di altre circostanze, ma siamo comunque contenti, il pubblico e i visitatori hanno risposto con grande piacere. La settimana prossima, perché quest'anno l'appuntamento delle giornate d'autunno raddoppia, il 24-25 saremo a Ostuni, in territorio di Ostuni, a Massega e Frantoglio, faremo una passeggiata naturalistica nell'area agricola di pertinenza alla struttura ricettiva. Quindi sarà un'altra giornata, speriamo che il tempo sia come oggi, in cui godere delle bellezze e del paesaggio del nostro paese, della nostra provincia di Brindisi. Siamo che questo è uno di quegli effetti del momento che stiamo vivendo, un effetto tutto sommato, se vogliamo, positivo, perché comunque le persone sono spinte, sono stimolate a conoscere ciò che è più vicino a noi. E nella provincia di Brindisi ci sono tantissime realtà che aspettano di essere conosciute, che attendono di essere visitate. E quindi diciamo che questa è un'occasione del giornate d'autunno con qualche complicazione nell'organizzazione. Ci si può prenotare sul portale fareprenotazioni.fondoambiente.it e noi registriamo tutte le presenze, misuriamo la temperatura anche grazie alla collaborazione con la Croce Rossa italiana a livello nazionale. Quindi diciamo che tutto avviene in sicurezza ed è bello anche in questo momento, in queste giornate, vedere quante persone hanno voglia comunque di riscoprire il nostro paese e di partecipare alle nostre manifestazioni.